Col San Costanzo Show l'appuntamento del 6 agosto allora. Arena BCC con il nuovo spettacolo Cesare Augusto, viaggio comico nelle Marche ai tempi dell'antica Roma. Al termine dello spettacolo proiezione del nostro cortometraggio sempre con il tema Roma antica dal titolo La scoperta del secolo. I soliti attori del San Costanzo Show, grandi attori, Davide Bertulli, Cesare Augusto, Massimo Pagnoli, Giovanni Gian Giacobbi, San Costanzo Show al completo, Oscar Genovese, Romina Antonelli. Quest'anno hanno gli entri, abbiamo anche un cane. Abbiamo anche un cane, chi è il cane? È lui, è lui è il cane. Vi aspettiamo, 6 agosto Arena BCC Cesare Augusto.